Antonio, ho un po' di occhiade. Bene, un po' di occhiade. Un po' di occhiade, ma occhiade vero, eh? Voilà. Ecco fatto. Hai visto? Sembrava una giornata, del cazzo. E invece mi è venuta fuori una giornata. Una giornata, che giornata. Occhiade però, è bella, eh? Belle. Sotto i fiumi, a cosa? Acqua viva. Visto? Occhiade. Eh? A posto? Ce ne possiamo tornare. Il problema è che non cadono. Occhiade. Occhiade. A ce ne possiamo tornare. Ecco.